Ma Luciano arriva a questo gol nel recupero? Sì, non si mette una... No, forse arriva nei tempi supplementari, dai, ma arriva sicuramente... Arriva, siamo tranquilli! Dice Luciano, l'effetto Moggi mi raccomando! Noi aspettiamo, noi siamo pazienti, aspettiamo questo gol, nessun problema, basta che arrivi! Stiamo giocando, ragazzi, ma stiamo giocando contro nessuno! Occhio! Occhio! No! Ragazzi... L'avevo detto, l'avevo detto! L'avevo detto, l'avevo detto! Oh signor! Ragazzi, mamma mia! Io rimango un attimo, senza parole, sono veramente in difficoltà a fare questa diretta perché è un'emozione... Mancini alle lacrime agli occhi, gol di Traikovsky, gol di Traikovsky, ci sono i 300 tifosi della Macedonia, e il Barbero ha impazzito i Traikovsky nel suo stadio. L'esimo avevo detto, ogni palla che passa alla metà campo e bisogna stare attenti a qualsiasi roba, l'hanno lasciato tirare, ha fatto 10 metri con la palla al piede e ha tirato dove ha voluto. Questo è un disastro! Mamma mia! Questo è un disastro! Questo è un disastro vero e... La mia vita è un disastro vero! Grazie a tutti.